salve a tutti siamo qui io francesco fusillo e maurizio maragoni a fare questa video lezione su partizionare un disco fisso di una macchina windows con g parted allora g parted è un partizionatore un programma partizionatore non di windows ma di sodi linux che noi faremo partire fra un po in live con questa chiavetta usb preparata prima per far vedere come si può mettere da parte uno spazio disco che accoglierà il nuovo il nuovo sodi linux facendolo partizionare da funzionamento live allora adesso spegniamo la macchina teniamo il pc perché il funzionamento avviene in live solo da macchina spenta quindi spengo la macchina inserisco la chiavetta maurizio adesso avvia la macchina e con f9 verifico nel boot menu che questa è una hp si fa f9 se la priorità è sulla chiavetta se è sulla chiavetta do invio eccolo lì f9 allora vedo che è sulla chiavetta ok perché l'avevo già preparata parte ecco questa è la schermata fa di partenza dico avvia console di linux non installa che la tazza avessi avvia solo dicendo avvia la macchina parte in modalità live carica tutto il sistema operativo e caricando anche gli applicativi carica appunto anche ci parte potente ci parte vero maurizia si è il partizionatore molto potente che permette di controllare lo stato dei dischi vedere tutti quelli che sono montati e soprattutto analizzare il tipo di partizioni che ci sono su ogni disco quindi se volete vedere le partizioni che ha una macchina dovete usare una live e ci parte anche perché windows non mostra tutte le partizioni windows a tante partizioni ai recovery a una partizione di boot e quant'altro come si vede questa è una live funzionante adesso io in sistema ve la metto in maniera che si possa vedere meglio perché è una risoluzione molto alta invece con la risoluzione più bassa abbiamo modo di vedere questo monitor con più eccola qua venire più chiara molto più chiara mantiamo questa configurazione allora g parted è qui menu generale sistema amministrazione g parted eccolo qua questi sono tutti i programmi di amministrazione diciamo della macchina della macchina di un certo livello adesso la macchina fa la sua scansione ecco qua già fatta importante controlliamo qui e se mi vai sopra ed è qui possiamo controllare i dischi che ci sono montati sulla macchina allora da quello sotto ovviamente la pennetta usb e quella sopra è il disco e il disco è importante fare molta attenzione perché se siano deve lavorare sul disco giusto praticamente può capitare che ci siano due dischi montati in alcuni casi e quindi si va a partizionare quello sbagliato allora questo è il disco fisso della macchina c'è una parte dedicata e fiche programma di boot è una parte riservata microsoft vedete non la si può toccare è una parte dedicata a windows questa parte gialla è la parte che consuma windows dunque vediamo che su un disco di 125 giga windows se ne se ne fulmina 60 giga allora noi adesso praticamente diciamo facendo clic su questa parte qui oppure evidenziando a questa parte qui e poi c'è un'altra parte che il recovery di windows che adesso non viene più fornito il dvd di ricoveri ma una partizione fa quel servizio lì allora faccio clic sulla partizione di windows e col tasto destro su questa partizione si apre una tendina che mi permette varie scelte formata non devo fare certo questo ma ridimensiona allora io clicco ridimensiona e tolgo un po di spazio a windows per fare lo spazio a so di linux e tolgo poco 20 giga che sufficiente di so di linux va lo stesso e poi quando andrò in fase di installazione di so di linux nella nella maschera che mi chiede installo cancello tutto mi installo a fianco gli dirò installati a fianco di windows e lui si installerà in questo spaziettino grigio di 20 giga ok notare che qui abbiamo ridotto poco lo spazio perché il disco è molto piccolo ma in un disco medio di 500 giga e lo spazio da dedicare e per funzionare correttamente almeno 100 giga per se linux perché ha bisogno di muoversi anche memorizzare c'è da dire che se lascia meno spazio libero windows windows si blocca perché lui ha bisogno di molto spazio per poter gestire i file aprire e aprire molto spesso fa girare delle applicazioni senza che lo sappiamo antivirus aggiornamenti e cose per cui se questo spazio disco noi lo riduciamo ancora c'è il rischio che ci parte da non funzioni rifiuti partizionamento quindi noi adesso partizioniamo solo 20 giga e gli diciamo resize ecco che lui in progetto di lavoro dirà che non alloccato avrà 20 giga a questo punto dirò applica queste operazioni e sei sicuro ovviamente una conferma ed ecco gparted che parte per fare l'operazione di partizionamento e qui lasciamo che finisca gparted senza toccare nulla a volte ci può quando i dischi sono grossi ci impiega un po più di tempo e quindi ecco finché non compare chiaramente che ha completato l'operazione a questo punto chiudo chiudo e adesso il disco fisso è già partizionato quindi windows vedrà un disco più piccolo di 20 giga non sarà più 120 giga ma sarà 105 adesso per simulazione qua ho una macchina nuova quindi posso fare una macchina prestante posso fare una simulazione di installazione e mi fermo solo alla maschera di richiesta dove mi installo gli dico italiano adesso faccio la simulazione di installazione non è oggetto di questa video lezione però un minuto si perde per capire dove si vuole arrivare stiamo funzionando in live abbiamo partizionato diciamo avanti non installo le software di terze parti che io installerei se dovessi installarlo nell'installazione reali lo farei ma non lo faccio per risparmiare tempo vado avanti e adesso dovrebbe uscire la maschera nella quale mi chiede dove dove vado a installarmi eccolo qua vedete installa a fianco di windows boot manager cancella il disco se io do questo comando installa a fianco lo faccio poi casomai lo fermo dico installa ecco avanti ecco a questo punto ho finito perché scelgo l'ora la tastiera da un utente scuola ma lo faccio che così si vede bene tutta l'operazione do la password mi interessa per confermare o la adesso vi dico avanti e la macchina si installa se va tutto bene e so di linux farà installerà anche il boot manager e all'avvio io avrò la possibilità di scelta windows o linux se il boot manager non lo fa o lo fa in un posto sbagliato qui c'è un programma che permette di fare la riparazione del boot in sistema amministrazione si chiama riparazione del boot però questo è oggetto di un'altra video lezione adesso mi fermo perché il titolo era partizionare il disco con g parted abbiamo fatto anche di più perché abbiamo fatto vedere anche come procedere poi successivamente la partizione ecco che quindi tanti saluti da francesco fusillo e morizio marangoni e buona sperimentazione sperimentazione